Buongiorno e ben trovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti alla Rassegna Stampa, occhio ai giornali. Abbiamo scelto per voi i principali titoli che guarderemo insieme sui giornali di oggi, il resto del Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico. Prima però guardiamo come sempre l'almanaco del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi sabato 19 settembre San Gennaro Vescovo, il sole sorto alle 6.51 e tramonterà alle 19.13. Guardiamo le previsioni del tempo della nostra centralina meteo che potete trovare anche sul nostro sito per consultarla in qualsiasi momento della vostra giornata con le previsioni e l'evoluzione del tempo. In questo momento ci rimanda un dato sulla temperatura che è di poco più di 20 gradi, tasso di umidità importante oltre il 70%. Vediamo il cielo come si presenta sulla webcam, vedete insomma c'è un cielo azzurro però comparsa di nuvolosità. Vediamo cosa ci prospettano per le prossime ore gli amici della protezione civile, sabato oggi vedete il cielo è parzialmente nuvoloso, sviluppi cubo uniformi nella zona centro meridionale e quindi possibilità di occasionali rovesci nel settore centro meridionale più probabile nelle ore centrali. Le temperature sono in diminuzione, vediamo l'evoluzione per domani che è decisamente tendente al brutto, come vedete anche la simbologia lascia poco spazio all'immaginazione, nuvoloso, molto nuvoloso, addensamenti cumuliformi, rovesci e temporali anche sulla fascia costiera e diffusi su tutto il resto del territorio e le temperature sono in diminuzione. Questa è la fotografia di domenica che non si presenta bellissima, vediamo lunedì invece ricompare il sole, le piogge solo nella fascia meridionale della regione Marche, nelle prime ore della mattinata irregolarmente nuvoloso il cielo con addensamenti nel settore centro meridionale, poi prevalenza di sereno per il resto della giornata, le precipitazioni durante la notte e fino al mattino con rovesci. Tendenza per la settimana, martedì e mercoledì è atteso un netto miglioramento con cielo prevalentemente sereno, quindi tendenza riconfermata per gli altri giorni della settimana oltre al lunedì, però poi seguiranno condizioni di variabilità e questo è quello che si prospetta per la prossima settimana, quindi tendenza al bello per i primi tre giorni. Vediamo i quotidiani di oggi, come vi dicevo, partiamo dal Corriere Adriatico di Pesaro, sistema pesarese, la politica in silenzio, l'onorevole Morani critica il procuratore Palumbo, non si può generalizzare, il procuratore Palumbo in conferenza stampa aveva espresso giudizi sferzanti sul sistema pesarese, la segreteria della CGL, però dice Palumbo ha ragione. Allora, sintetizzando che cosa aveva detto in conferenza stampa, vedete nella foto il procuratore con i vertici della Guardia di Finanza di Pesaro provinciale per il buco di 18 milioni della Confartigianato, un sistema illecito fatto di reati fiscali, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta e Manfredi Palumbo in conferenza dice che è una città governata da centri di potere omertosi e collusi con relazioni familistiche e amicali che offrono la strada in discesa ad alcuni giovani ed escludono altri. Queste erano le considerazioni durante la conferenza stampa del procuratore che ha scatenato un po' la reazione dell'onorevole Morani. Vedremo altre considerazioni su queste affermazioni anche su altri quotidiani. Continuiamo con il Corriere Adriatico, furti in auto, sono scattati gli arresti per i tre che li compivano, un'operazione congiunta con più agenti e oltre a Fano e Urbino anche quelli di Macerata, un giovane, la suocera e la sorella di lei pedinati e poi sorpresi in flagranza di reato. Continuiamo sulla pagina di Fano, del Corriere Adriatico, in grande evidenza l'incendio alla ex cava che ha minacciato le case adiacenti alla zona, ex cava in fiamme, alcune case in pericolo. Vigili del fuoco di Fano e Pesori in azione per otto ore su un fronte di 400 metri e non si esclude il dolo e quindi insomma indagini avviate. Grande il lavoro dei vigili del fuoco, meritorio, veramente noi eravamo lì con le nostre telecamere e chi era lì ha potuto testimoniare veramente il lavoro estremamente rischioso e insomma senza risparmiarsi. Quindi insomma un applauso a loro per la rapidità. Cambiamo testata, andiamo nel messaggero di Pesaro, anche qui in primo piano con Farte, indagati sotto torchio, si parte con gli interrogatori dei funzionari prima di Equitalia, poi naturalmente ci saranno anche gli altri inquirenti. Il Presidente della Camera di Commercio invita Bastianelli e Cinali a dimettersi. E poi un episodio nel quale si è trovato in mezzo un autista di un'ambulanza di Fano che è andato in trasferta in Abruzzo, è stato sequestrato da alcuni africani per protesta che si sono barricati nell'ambulanza e quindi sono momenti di paura per questa singolare dimostrazione e l'autista fanese è stato coinvolto in questo episodio. E poi è scomparsa la pagina, vi volevo far vedere, ecco, il meteo caldo si torna a respirare, insomma questa è la previsione dopo questi giorni di caldo africano, di vento desertico che ha sferzato i visi e la pelle di tutti noi, si ritorna a respirare. E poi per l'anniversario di Rossini si va a Roma per cercare di coinvolgere Napolitano in questo evento. Vedremo se l'ex capo dello Stato sarà a Pesaro per questa ricorrenza. E si parla sul messaggero anche degli eventi estivi che hanno visto Pesaro al centro anche mediatico della cronaca nazionale, fanno il boom 350.000 presenze, questi sono gli eventi estivi messi in campo dall'amministrazione pesaresi. Il sindaco è entusiasta perché dice numeri da record. Ancora nelle pagine del messaggero si parla delle fusioni, adesso anche il comune di Gradara. Prima era stata una semplice boutade sulle pagine dei quotidiani i giorni scorsi, questo eventuale passaggio in Romagna di Gradara, una boutade mediatica, si pensava, invece poi adesso qui ci si focalizza ancora di più. Gradara guardiamo al Romagna e convoca i sindaci. i sindaci. Il sindaco Foronchi ha riunito insieme a Gabice anche i colleghi di Cattolica e San Giovanni Marignano. E li vedete tutti qua abbracciati amorevolmente. Stiamo portando avanti un discorso parallelo al progetto dell'Unione del San Bartolo, praticamente già realtà, ma non c'è contraddizione. Poi anche la fusione Pesaro-Momparoggio, apripista per Valmetauro, Valcesano e Montefeltro. Questa è una notizia che riprenderemo. La pagina di Fano del messaggero, ve la faccio vedere, anche qui non c'è mai fine. Al peggio i furti a Foligni sono arrivati a sette e quindi c'è una rassegnazione mista a esasperazione da parte dei titolari. I ladri hanno però iniziato svaliggiando distributori di merendine e di sigarette, poi hanno cambiato in corso d'opera il loro obiettivo e hanno mollato tutto per rubare le bici di marca di Fuligni. Il bottino ammonta a 20.000 euro, notte di razzie in successione e finale col botto. da Foligni è scattato l'allarme da parte di un camionista che, passando di lì, ha notato qualche cosa che non era proprio nell'ordine delle cose e quindi è partita la rincorsa delle forze dell'ordine, ma avevano già portato via tutto. Il negozio violato dopo aver praticato un foro a picconate nel muro e quindi è il settimo in tre anni e come vi dicevo siamo esasperati. Conclusa la bonifica, si parla di scuola, in basso qui nella pagina dedicata a Fano, anche gli alunni del liceo Torelli lunedì prossimo riprendono il corso normale degli studi. Ultima testata è quella del Carlino, vi faccio vedere, ecco qui di spalla si riprende il discorso che vi dicevo prima delle considerazioni fatte da Palumbo, illegalità diffusa, bilanci fasulli e questa considerazione sulla natura pesarese che dice, virgolettato, quindi parole del procuratore, molti cittadini pesaresi hanno una natura profonda, sono votati all'illegalità, questo dice con amarezza il procuratore e questo ha scatenato un po' le reazioni appunto della Morani. E poi sulla sanità, Andrea Cecconi, il deputato del Movimento 5 Stelle, dice non mi sorprendono né il caos né le nomine, sanità fuori controllo e dice bella fine per l'isola felice del PD e sono appunto le considerazioni della procura, dice non credo che Pesaro sia però peggio di altre città di sicuro e finito il mito che si sta meglio a Pesaro che da altre parti. E su Marche Nord, anche questa è una considerazione che fa Cecconi, dice Maria Capalbo teneva la foto di Ceriscioli nel suo ufficio, quindi una scelta scontata e poi via di seguito altre considerazioni in questa intervista al deputato del Movimento 5 Stelle. Come vi dicevo il sindaco fa un po' la summa di quello che è avvenuto, sindaco Ricci, la summa di quello che è avvenuto nell'estate pesarese, dice un'estate da record e poi appunto da i numeri degli eventi, Pesaro è stata più vivace e così anche più attraente e sicura. Il sindaco poi dà una botta così agli albergatori che dice è stata una stagione molto positiva anche per gli albergatori, se poi non vogliono dirlo si sa perché, insomma c'è il logo comune dire che comunque vada la stagione bene o male che sia, sia loro che i bagnini si lamentano sempre, insomma per loro non va bene, questa è una considerazione ad alta voce che ha fatto Matteo Ricci. Qui vedete una foto molto eloquente, più candele per tutti, l'iniziativa sulla spiaggia è stata la cartina tornasole delle scelte e quindi nel senso che questa iniziativa così è apparentemente molto semplice, ha avuto un grande rebound mediatico e anche di presenza e quindi va, secondo il sindaco, potenziata e queste sono le strategie per il turismo, San Bartolo, terra dei motori e poi Napolitano per l'anniversario di Rossini. Vedremo se l'ex Presidente della Repubblica sarà a Pesaro. Allora, per salvare il Monbaroccio ci sono valide alternative, quindi si ripara di questa fusione, a parlare è un consigliere di minoranza, Emanuele Petrucci, che dice che Vichi e Ricci ci pensano da tempo, sarebbe meglio andare con Cartoceto. Fano per il resto del Carlino, apre con l'incendio alla cava Solazzi che va a fuoco, una notte d'inferno e naturalmente scattano le indagini dei carabinieri sulle origini dell'incendio, timori per i rifiuti depositati, grande paura, le fiamme hanno lambito due case e si è temuto il peggio per il vento che spingeva le fiamme a ridosso delle abitazioni. E poi, sulle considerazioni di Vincenzina Turiani, a passi sulla stampa nei giorni scorsi, Sinistra Unita dice che bisogna consultarsi prima di dire qualcosa e quindi le reazioni di Rita Carnarone sono di Vincenzina, è indifendibile, il suo è un discorso razzista, polemica infinita, l'ex candidata dei comunisti aveva denunciato i migrati in autobus senza biglietto, viaggi a sbafo e quindi Sinistra Unita però scarica, fa scendere Vincenzina Turiani, dal bus dice quello che ha detto, non è in linea con la segreteria. Vi faccio vedere l'ultima pagina di Fano, va da sé che però chi usufruisce di un servizio pubblico debba comunque pagare, dal prossimo anno scolastico Fano ospiterà il biennio dell'agrario, quindi si riparla di questa evenienza che era stata tracciata diversi mesi fa, adesso sembra che la cosa diventi ancora più concreta, il percorso è tracciato, lo dice Massimo Seri, la sede sarà al Codma come appunto si era pensato prima, quindi dal prossimo anno scolastico Fano ospiterà il biennio dell'istituto agrario di Pesaro. Seri è ottimista in questo e dice siamo in una fase avanzata, tutti gli enti coinvolti avrebbero dato l'assenso. E quindi insomma buone prospettive anche per coloro che vogliono frequentare e intraprendere questo percorso di studi che ultimamente ha visto un rinverdimento di questo percorso scolastico che mette a contatto con la natura e col verde per buone prospettive di lavoro, perché no? Dopo che le campagne erano state un po' svuotate dai giovani nei decenni scorsi. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, per aver scelto di iniziare la giornata insieme a noi, naturalmente sempre il nostro sito, ve lo ricordo occhionanotizia.it per rimanere online e attivi sulle notizie, questa rassegna stampa poi la potrete oltre che in replica rivedere appunto sul nostro sito. Grazie, buon sabato e buona domenica a tutti voi. Arrivederci.